La semplificazione amministrativa rappresenta uno dei principi cardine della politica di coesione 2014-2020. Perché semplificare? Per garantire un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse disponibili. Come si raggiunge questo obiettivo? Spostando l'attenzione dalla burocrazia ai contenuti e dai risultati. Non c'è più l'obbligo di verifica sui costi dichiarati. Si tratta di un vero e proprio cambio di prospettiva. L'attenzione è concentrata sulla qualità delle azioni e sul raggiungimento di obiettivi concreti e misurabili. Le unità di costo standard rappresentano il fulcro di questo processo di semplificazione. Il nuovo approccio deve prevedere la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo. E quindi anche la tua. Grazie a tutti.